Ma voi state scherzando? Quello è uno scherzo, vero? È uno scherzo, vero? Ma io volevo fare il video tranquillo, è Natale, ok, festeggiamo, il cazzo festeggiamo! Io me lo sentivo che qualcosa di sorta doveva andare, Pellissier, Pellissier, me lo sentivo! No! O Giaccherini, o Meggiorini, o Pellissier, Pellissier è il 93esimo, Pellissier è il 93esimo! Andanovic, chissà che cazzo gli viene ogni tanto, io non lo capisco, cosa c'è Andanovic? Ogni tanto vede le farfalle, esce a minchia ogni tanto, già una volta ci sta a minchia, una volta, la seconda, pom, gol, 93esimo! Madonna che, ma veramente, ma mai lo sentivo! Madonna che spaccherei tutto, vi spaccherei tutti, vi spaccherei! Pure Brozovic, che cazzo di cazzo d'angolo hai battuto? L'ultima azione lì, tutto storto, ma come? Ma io non capisco, io non capisco, Madonna, vedi? Maronna, 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 maronna... Ma non è possibile, mi dovete fare incassare per forza, oh! Pure Natale, pure Natale! Era Natale tranquillo, è Natale tranquillo! Oh, una vittoria, Emina non ha perso, no! Non posso mai godere, non posso mai godere! Volevo fare un video sfottuato contro Emina, non posso farli, perché non posso mai godere! Perché noi siamo ancora più handicappati, siamo! Senza offesa per i disabili! Però puttana merda, da come cazzo fai col chievo? Col chievo che non è facile, per carità, e la trasferta sempre è difficile, però come fai a pareggiare? Come fai... e poi questa è una sconfitta, per me è una sconfitta questa, una sconfitta! Ma, ma, non è possibile! Mi dovete fare incassare per forza! Mi dovete fare incassare per forza, buona Natale! Ma è una cosa assurda, oh! Una partita tranquilla, che dovevamo chiudere, non stavamo uscite... Stavo pure dicendo, ma Icardi ha fatto una buona partita, anche se non ha segnato! Quanto meno, qualche cazione buona l'ha fatta! È stata quell'azione lì che Sorrentino ha fatto due miracoli, vabbè, ci sta, comunque, non è che... Pam! Mi dovete fare incassare per forza! Ma è assurdo! Ma con Napoli, figurati se vinciamo con Napoli! Quindi, vinciamo questa, poi, possiamo forse anche permetterci di non vincere con Napoli! E con Napoli sarà ancora peggio, eh! Sarà ancora peggio! Ma dai, come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Perisic, a parte il gol... Non è che ha fatto chissà che cosa, ha fatto solo dei puttanari! Poi, figurati una volta che Politano e Perdici segnano da fuori aria, mai una volta, ma figuriamoci! Soprattutto Politano, che mi... M***a, gioca bene, sì, però, poi a volte fa delle robe che non capiscono come cazzo fa tirare fuori in quel modo! Cosa solo ha sempre segnato il gol della Madonna da fuori aria? No! E tira fuori! Gioao Mario, poi, sì, forte, per carità, ma è sempre sulla sufficienza, non fa niente di più! Che cosa hai mangiato al primo tempo? Per carità, non era facile, doveva arrivare per tempo col piede... Però, ma anche lui uno scarpone, eh! Chi che se ne dica, ragazzi, da! Col chievo, col chievo... Io me lo sentivo, ma io me lo sentivo! Me lo sentivo che questo qua non lo... Avevo un brutto presentimento, avevo un brutto presentimento, avevo, lo sentivo! Che qualcosa doveva andare storto, puntualmente, puntualmente, per rovinarci il Natale, no? Pum! Uno pa... Due punti nel cesso! Due punti nel cesso! Dalla Coppa a spallete, date la Coppa a chi cazzo volete! Siete dei minchioni, sì, dei minchioni siete! Dei minchioni! Poi dite perché critico la squadra, perché sei contro quello, perché... Perché a volte fanno step... Una grande squadra, non fa se stronzate! Ragazzi, io vi auguro buon Natale, ma io veramente, vi giuro, potete dire che cazzo volete! Ma io mi incazzo troppo quando arrivano dei pareggi del genere contro se squadre! Ma veramente, ma veramente, ma... Ma veramente, facciamolo sempre bene, a parte che il chievo ormai che cazzo vuole salvare il chievo! Fa un punto a partita, pam, ha fatto un punto con noi pure! Che incredibile, incredibile, non ci può... Madonna mia, madonna! Senti, ragazzi, io chiudo qui il video, ragazzi, buon Natale, buone cose! Noi ci vediamo, non lo so qua, ma... Mi fate passare la voglia di fare pure i video, ragazzi! Mi fate passare la voglia di fare pure i gameplay, tutte le cose che faccio io! Ma madonna mia, com'è cazzo? Andanovic, madonna, ti prenderei a pugno! Fa le grandi parate e fa le grandi stronzate! Fa le grandi parate e fa le grandi stronzate! Ma porca puttana, oh! Minchia, minchia, minchia! Fatemi calmare, va, che è Natale, cazzo! Natale di merda ci fate passare, sempre, sempre! No, sempre no, perché ogni tanto vinciamo, per carità! Però quelle volte, questi pareggi qua, io non mi sta giusto pareggio! Per me è una sconfitta, è una sconfitta! È una cosa assurda, ma mi fate incazzare! Chiudo qua il video, adesso me ne vado a cena fuori, incazzato pure! Non dovrei esserlo, lo so, però mi incazzo perché ero tranquillo, sull'1-0, facevo il video, tranquillo! No, dovevo sempre fare i video incazzati! Dice, vabbè, almeno fai più visualizzazione! Ma a me che cazzo me ne fotte? Ma che cazzo me ne fotte a me? Minchia, oh! Ah, incredibile, incredibile! Boh, ci vediamo! Baffan... Basta, basta, ci vediamo quando ci vediamo, non lo so, sono troppo incazzato! Incazzato come una bestia, incazzato come una bestia, ci vediamo!